I bombardamenti israeliani continuano a martellare la striscia di Gaza. Almeno 14 persone sono morte e altre decine ferite, ieri sera dagli attacchi aerei scagliati su Rafa e su Deir al-Balá. Colpiti dunque il sud del centro della striscia e nel mirino resta Khan Yunis, secondo l'esercito israeliano, in quella che considera la roccaforte di Hamas, sono state arrestate dozzine di sospetti terroristi, tra cui due accusati di aver partecipato agli attacchi del 7 ottobre scorso contro Israele. E altrimenti sono stati uccisi dalla raid dei paracadutisti e delle brigate Ghivati durante un'offensiva contro le sedi di Hamas, dove è stata colpita anche una cellula tecnologica rintracciata da un drone israeliano. Nella raid a Deir al-Balá, una giornalista, Nafetz Abdel Javed, della televisione palestinese, è stato ucciso assieme al suo unico figlio. Per il segretario delle Nazioni Unite, Antony Guterres, gli attacchi a Rafa peggiorerebbero quello che è già un incubo umanitario nella zona, dove più della metà della popolazione di Gaza ha cercato rifugio dalle bombe israeliane.